Oggi abbiamo chiesto sia alla Camera che al Senato l'immediata calendarizzazione della proposta di legge della Lega per rendere effettiva e concreta la legittima difesa. Una proposta di legge che afferma un principio, che in questo Paese difendersi, difendere la propria incolumità, difendere i propri figli, difendere la propria famiglia all'interno della propria abitazione, non può mai, e ripeto mai, essere considerato un reato. Difendersi deve essere un diritto, in modo particolare se abbiamo uno Stato che anziché difendere i cittadini, anziché difendere le vittime, le persone oneste, difende i criminali. Uno Stato complice dei criminali, uno Stato complice dei delinquenti, uno Stato è un governo che non garantisce e non mantiene la sicurezza dei cittadini. Uno Stato complice dei cittadini, uno Stato che si arrende alla criminalità, un governo che ha ucciso la sicurezza dei cittadini approvando gli svuotacarceri, approvando le depenalizzazioni, cancellando il principio della certezza della pena, tagliando risorse alle forze dell'ordine. Se lo Stato diventa nemico della sicurezza, il cittadino deve difendersi, il cittadino deve difendere se stesso ed è questo il motivo per cui la nostra proposta di legge va nella direzione di rendere effettiva il principio della legittima difesa, cancellando l'eccesso colposo di legittima difesa. Grazie a tutti.